sono fabio seitta technical project manager per ht nel progetto tesi e ht in qualità di capofila nel progetto svolge e sviluppa numerose attività esse partono tutte dalla fase di ricerca fino ad arrivare alla fase di sperimentazione queste attività possono essere racchiuse in cinque macro aree la prima il cardinal core del progetto è la dp4a che è un acronimo che sta per data platform for autism ed è una piattaforma di scambio di informazioni per tutti i soggetti che ruotano attorno al paziente affetto da dsa disturbo dello spettro autistico la seconda è quella della ricerca e la realizzazione di una cartella clinico sociale comportamentale la terza che è quella della realizzazione di una piattaforma di collaboration la quarta è quella dell'ideazione e realizzazione di un un'estensione dello standard di interoperabilità hl 7 file sotto l'acronimo di aim che sta per autist interoperability model e la quinta che è quella della definizione ideazione di un framework per le appennative tesi